Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Visage, iniziamo subito. Pianto soffocato. Una pistola. Ok, quindi a quanto sembra questo tizio ha rapito una donna e ora forse vuole spararle. Ah, ma ci sono più persone. Ma è la sua famiglia raga, perché vedo un bambino a fianco. Ma non mi dite che questo è tipo un padre di famiglia che uccide la sua stessa famiglia. Però sembra di sì raga, perché questi sono bambini. Madonna raga, che inizio macabro. E' appunto l'arma su se stesso. Visage. Vorrei già chiudere il gioco. Oddio, non mi dite che nonostante questa persona si sia uccisa, è ancora viva? Perché c'era il sangue a terra? Oh, fammi entrare. Vabbè, andiamo avanti, cerchiamo di capire meglio cosa cavolo sta succedendo. Stanza di avanzamento. Questa stanza contiene tutti gli oggetti che rappresentano i tuoi progressi di gioco. Questi oggetti vengono raccolti in modi diversi, incluso al termine di un capitolo. Una volta raccolti, appariranno automaticamente nella stanza di avanzamento. Va bene. Telefono, dimmi, chi sei? Quindi sono tre settimane che questo tizio non esce di casa. Il livello di sanità del tuo personaggio influisce sul tuo gioco. E stare troppo a lungo al buio ridurrà il livello di sanità del tuo personaggio. Se il cuore è visibile chiaramente, significa che la salute mentale del tuo personaggio è molto bassa e potrebbero accadere eventi pericolosi. Uuuuh. O di qua si scende. Cerchi la chiave del garage? L'avrai lasciata nella tasca dei jeans nella lavanderia, come sempre. Ringraziami dopo, tesoro. Quindi dobbiamo andare nella lavanderia. Oh, si è fulminata la lampada. Quindi questo era un evento paranormale. Gli eventi paranormali si verificano in modo casuale nel corso del gioco. Impara a identificarli, poiché ostacolano il tuo cammino e riducono drasticamente il tuo livello di sanità mentale. Il livello di sanità mentale del tuo personaggio influisce a sua volta sulla frequenza di comparsa degli eventi paranormali. Posso sostituirla con una nuova. Oh, aspettate. Sta spuntando l'icona della sanità mentale. Mettiamoci alla luce. Spegni questa radio. Spegnila. Ho preso una lampadina. Sostituiamola a questa qui rotta ormai. Uuuuh, raga, ma è fatto molto bene. Da un bel mood. Prendi questo oggetto per iniziare un capitolo. Per poter iniziare un capitolo diverso dovrai prima completare questo. Anche questo è un oggetto che fa iniziare un capitolo diverso. Andiamo al piano di sopra. C'è solo il bagno acceso. Cos'è? Pillole. Le pillole agiscono da coadiuvante per la salute mentale del tuo personaggio. Sono essenziali per la cosa che avviva. Quando il tuo livello di sanità è estremamente basso, rappresentano l'unica soluzione per farti rinsavire. Una camera da letto. Cos'è? Una rivista? Questa pagina è stata strappata, perciò è illegibile. Mi sa che devo trovare una pagina. Non so se sia necessario, però vabbè. Che porca t***a, ma che è? Mi ha fatto saltare. Oh, raga. Che era? Avete sentito? Ma è qui dentro. Oddio, ma che paura. Raga, mi servirebbe una torcia. Spero si trovi, perché veramente stanno troppe parti al buio. Raga, io direi. Clicchiamo queste chiavi e iniziamo un capitolo. Hai trovato una chiave che ho attaccato uno specchietto. Capitolo di Dolores. Un sogno contorto. Capitolo di Dolores intende che è un capitolo di dolore. No, questa è troppo squallida. Chiave con uno specchietto indica questa stanza, sicuramente. Apri. È tutto coperto in questa stanza. Mi servono delle candele. Oddio, cos'è qui? Uno specchio che potrebbe fare questo specchio. Mi serve per qualcosa? Raga, è scomparso lo specchio. Eppure era molto, molto grande. Quindi com'è fatto a sparire così? Questa porta non si apre. Andiamo di qua? Vai. Siamo tornati qui in soggiorno? Raga, lì dietro riesco a scorgere lo specchio. Si trova di nuovo sotto un telo. Oh no. Ma è lo specchio lì sotto. Non c'è nulla. Si è spostato al piano di sopra. Ma quanto è agile? Troppo agile per essere uno specchio. Cos'è, una chiave? Semiinterrato. È la chiave che non volevo trovare. Ora siamo costretti ad andare nel seminterrato. No. Si scende. No, non mi piace. No, no. Raga, questa radio però... Ma perché non la buttiamo fuori? O almeno a terra, così si rompe. Cos'è? Accendino. Possiamo usarlo tipo come torcia. È chiusa, serve chiave del seminterrato. Ce l'ho... No, allora, senti. Basta. Ah, siamo riusciti ad entrare in cucina. Vediamo il resto di questa parte della casa. Serve chiave del seminterrato. E ce l'ho, tesorino. Ok, ho con me l'accendino. E ho un po' meno paura. Sempre tanta, ma un po' meno. Aiuto, evita di rimanere al buio troppo a lungo. Una botola. C'è uno strano simbolo sopra. Non si apre. Ah, abbiamo finito, mi sa, con il seminterrato. Dobbiamo ritornare su. Il pianto di un bambino. Vabbè, un classico. Sempre terrificante. Entriamo qui? C'è qualcosa qui dentro? Per attivare un video vuol dire che c'è qualcosa. Ho sentito il rumore delle chiavi, giusto? Chiavi del garage. Ecco. C'è qualcuno? Hanno chiuso la porta alle nostre spalle. E anche in maniera molto violenta e maleducata. No, l'accendino è scarico, cavolo. Andiamo di sopra che vedo la luce. Oh. Oddio, raga. C'è dal garage, quindi riusciamo a tornare qui. È tutto collegato. Allora, saliamo al piano di sopra perché lì c'è lo specchio. Ecco lo specchio. Vai, leva questo telo. E si vede un'altra stanza all'interno. Forse sta mostrando quindi la soffitta. La maniglia è troppo lontana. Che sono delle crepe qui? C'è qualcosa che si muove e fa rumore in soffitta. E allora dobbiamo trovare qualcosa per poter tirare giù le scale. Oddio. Chi è quello? Mi scusi, lei chi è? Scomparso. Lo devo seguire da qualche parte. Spero non mi voglia fare qualcosa di brutto. È scomparso ancora. Devo salire qui? Penso verso la stanza dell'avanzamento. Questo quadro prima non c'era, me lo ricordo. Forse questo è il gancio con cui possiamo tirare giù le scale della soffitta. Ma non è che quell'uomo che abbiamo visto è quello del quadro? Vai, apriamo la soffitta. Veloce, veloce. Sali, 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 sali. Chi c'è qui su? Vediamo di scoprire cosa ci voleva dire lo specchio. O almeno cosa ci voleva mostrare. Questa sedia. È una vecchia sedia a dondolo. Sulla scatola c'è scritto sole e tè. Non si apre. Che facciamo scendiamo di qua? Dove sono finito? Mi sa che siamo finiti in una dimensione parallela. Perché qui c'è il sole fuori. C'è un simbolo musicale sulla scatola. Gli oggetti chiave che possono essere utilizzati in un numero indecinito di volte possono essere conservati nel mondo di gioco. Osserva bene l'ambiente che ti circonda per trovare queste aree di deposito. Ascoltiamo. Pare che manchi qualcosa. L'altra ciabatta. Ok. Oh si è rotto lo specchio. Una serie di numeri. Eh vabbè raga non riesco a capire. Pare che manchino dei pezzi. Usciamo. Oh. Cos'è? Oddio ma c'è qualcuno lì? Raga io vedo delle gambe. Le vedete pure voi. Vabbè vado contro per forza. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? L'accendino è scarico. Eh vabbè raga sono fritto. Che è successo? Ah sono morto? Cosa? Cioè ora la camera da letto è rimasta nella dimensione reale. Oddio c'è una scia di sangue. Proviamo a seguirla. Dove è finita la stanza dell'avanzamento raga? Che cavolo? No ma dobbiamo scendere lì dentro vi prego no? Vabbè è finita. Oh e quanto si scende? Ok. Ma che casa strana. Oh. Ma com'è fatto a passare quel tizio? Degli specchi. Fin troppi specchi. Volete mostrarmi qualcosa? Tipo chi è la più bella del reame? Devo trovare dei riflessi quindi. Dove è andata quella figura? Oh no. Si è impiccata. È scomparsa raga. Madonna raga. Aspettate. Due secondi di pausa. Scendiamo. Fine. Sono morto per forza. Ah è Dolores. La donna ti ha chiesto di riportarle il suo figlio. E gliela riporto però basta che non mi fate spaventare. Eh la casa è un po' storta raga. E siamo nella torre di Pisa. Uno specchio. Cosa è qui dentro? Tira questo martello. Vai. Ah. Ce l'ha fatta. Che è? Qualcuno ha bussato la porta? Chi c'è? Nessuno. Eh. Ti pareva. C'è uno specchio qui su? Oh l'ho rotto. Possiamo entrare. Un vicolo cieco. Oh ma che è una trappola? Ok. Raga. Vai. Colpisci il pavimento. Veloce. Più forte. Più forte. Più forte. Più forte. Più forte. Più forte. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.